E' con noi in studio Marietta Tidei, candidata alle regionali per il terzo polo per il presidente D'Amato. Tu sei stata presidente della commissione sviluppo alla regione Lazio e quindi ti sei molto spesa per quanto riguarda le aziende, le attività produttive. In questa fase e dopo, che cosa c'è nei tuoi progetti? Beh intanto c'è molto nel programma del candidato presidente D'Amato, che è qualcosa che va in continuità con gli anni che abbiamo appena passato. Intanto ci sono tante risorse europee e questo credo che sia qualcosa di assolutamente positivo e per i prossimi anni le risorse europee saranno doppie rispetto anche al ciclo di programmazione precedente. Tantissimo va proprio sul sostegno alle attività produttive. Io ho presieduto la commissione sviluppo economico e attività produttive. In questi anni la regione ha emanato moltissimi bandi su tutto, dal credito alle imprese. Nel momento del covid abbiamo erogato liquidità per 36.500 imprese con prestiti a tasso zero di 10.000 euro e l'abbiamo fatto nella fase più calda della pandemia, quando molte imprese sono state costrette a sospendere la loro attività o comunque a mutarla. È stato un periodo molto difficile che la regione Lazio attraverso un bel programma di emissione di liquidità ha provato in qualche modo a contrastare attraverso un'operazione di grande liquidità, un'operazione che si chiamava pronto cassa. Ma non abbiamo fatto solo questo e non l'abbiamo fatto solamente in periodo di covid. Noi abbiamo emanato bandi per i giovani per esempio che decidono di aprire un'azienda, tutti quei giovani che magari non avrebbero la possibilità di un normale accesso al credito bancario. Sono prestiti anche qui a tasso zero fino a 25.000 euro da restituire in 72 rate e li diamo per favorire l'autoimpiego, l'auto imprenditorialità, contributi a fondo perduto fino a 80.000 euro per donne giovani che vogliono diventare imprenditori anche con una sorta di assistenza, quasi tutoraggio, accompagnamento per queste persone che vogliono comunque dedicarsi alla impresa. E poi innovazione sostantivo femminile, un bando rivolto alle imprenditrici donne che decidono comunque di innovare o il loro processo di produzione o i loro prodotti digitalizzando o comunque diciamo portando innovazione alla loro attività. Anche qui un fondo perduto con contributi a 30.000 euro e potrebbe andare avanti il piccolo credito per le aziende, il piccolo credito energia, quindi noi sosteniamo quegli investimenti volti a ridurre il consumo energetico e i costi energetici, quindi anche qui da una parte 30 milioni sugli investimenti liberi, da una parte 20 milioni appunto a supporto di questa misura che va a sostenere gli investimenti per ridurre i consumi energetici. E poi tanto tanto tra il Cora, il Presid, tutte le operazioni che abbiamo fatto sul capitale di rischio, le operazioni sulla reindustrializzazione, noi siamo stati partner in ben 85 progetti per circa 850 milioni di tanti processi di sostegno che già aveva intrapreso il Mise, quindi la Regione Lazio si è messa a fianco del Mise per sostenere quei progetti particolarmente meritevoli di attenzione e di sostegno e quindi abbiamo messo nostre risorse anche su grandi progetti. E poi l'enorme tema dell'economia del mare, abbiamo inserito nella nostra strategia di specializzazione intelligente l'economia del mare insieme all'automotive, quindi significa più fondi per la ricerca in questo settore e una grandissima azione di coordinamento tra ricerca, industria, ci sarà fortemente il Rome Technopol che mette insieme il mondo industriale, il mondo delle imprese con il mondo universitario perché la peculiarità del sistema laziale è proprio quello di avere al suo interno tanta ricerca, tante università, quindi qui gli imprenditori possono trovare delle persone altamente formate, tante cose veramente che noi dovremmo poter continuare. Quindi una continuazione tra il prima e il dopo. Assolutamente, anche perché per il dopo come dicevo all'inizio ci saranno anche più risorse perché l'Unione Europea ci dà quasi il doppio delle risorse che ci ha dato rispetto alla programmazione precedente e questo significa poter fare di più sulle politiche attive per il lavoro, significa poter fare di più appunto per incrociare domande e offerta, significa poter fare di più per includere socialmente, significa poter fare di più per sostenere imprese, giovani, donne, borse di studio, quindi tante cose che noi vorremmo continuare a fare ma in quel senso di continuità che abbiamo fatto fino adesso. Ecco io sulle donne, noi attraverso i nostri sportelli Donne Forza 8 abbiamo assistito più di 4.000 donne che sono state in qualche modo orientate, indirizzate verso bandi, consigliate rispetto anche a quelle misure che potevano diciamo essere più confacenti alle loro attività e ai loro progetti di vita. Ecco noi vorremmo continuare a fare questo e ci piacerebbe che la prossima volta i cittadini, ci desse il 12 e il 13 febbraio, ci confermassero la loro fiducia, senza consegnare alla destra una regione che la destra ha massacrato nei conti della sanità e dei bilanci e continuando invece con una stagione di rinascita che in questi anni c'è stata. Grazie a tutti!